Il tema di questa sera è di estremo interesse Seneca e Agostino, felicità dei pagani, felicità dei cristiani e credo che la riflessione che Ivano Dionigi ci propone ci farà riflettere anche molto sulla felicità, sul senso di felicità, cos'è la felicità oggi, cosa intendiamo spesso per felicità, parola che fa paura, che spaventa, che suscita a volte proprio il timore di pronunciarla, parola spesso frustrata da un concetto di felicità, da un'idea di felicità che spesso oggi appare molto superficiale e consumistico, ma avendo la possibilità di ascoltare il professore Ivano Dionigi, ringraziandolo ancora, il professore è anche una delle coronne del nostro Consiglio del Centro, non c'è nulla da ricordare perché neanche è necessario in un contesto in cui è sempre stato presente, possiamo ancora ringraziarlo per tutto quello che ha fatto per la nostra Università e per quello che ancora da tutti i punti di vista ci aspettiamo dalla generosa ricchezza del suo intelletto e del suo cuore. Grazie. Ma come il suo contrario, vale a dire il male, il dolore e l'infelicità, così quella dalla felicità è la questione più antica del mondo e pertanto stasera è di noi che si parla. Io farò una premessa, poi entrerò nel tema del confronto ravvicinato di Seneca e Agostino e vediamo se ci sono le condizioni per approdare a una qualche conclusione. In premessa, dicevo la domanda più antica del mondo che Aristotele formulava così, perdonatemi queste tre parole greche, tis aristos bios, qual è la vita migliore? Qual è il tipo di vita ideale? Qual è la vita più felice? Tis aristos bios? Qual è il bios ideale? Su questo tema, su questa domanda nell'antichità, dice Agostino, che si sono confrontate 288 dottrine, 288 secte, dice Agostino. Qual è la vita migliore? Tanti, è vero, io non posso così censirne 288, però i principali, è vero. Chi poneva la felicità nelle cariche, nella carriera, che il greco chiamava timè, chi nella gloria e nei primati, la doxa, chi nel piacere, le donè, chi nelle ricchezze, nei beni materiali, cremata, chi nell'azione politica, nel fare, il bios politicos, è vero, chi nella contemplazione, nella conoscenza, era la vita teoretica, il bios teoreticos. E un quadro di questo ci viene dal VI secolo da un passo di Pitagora. E mi piace leggere qui. Cosa dice Pitagora? A mio parere, la vita umana è simile a una di quelle fiere che si tengono con grande apparato di giochi e sono frequentate da tutta la Grecia. Lì, infatti, alcuni cercano la gloria e la fama di un premio nelle gare sportive, altri sono attirati dal guadagno trafficando a comprare o a vendere. E poi c'è una categoria di persone, ed è la più nobile, che non cercano né l'applauso né il guadagno, ma ci vanno come spettatori e osservano attentamente quel che avviene e come avviene. Lo stesso è la vita umana. Noi siamo partiti per questa vita da un'altra vita e da un'altra natura, come da una città verso un mercato affollato. Alcuni schiavi della gloria, altri del denaro. E vi sono certe e rare persone che trascurrono completamente tutto il resto e studiano attentamente la natura. Questi si chiamano amanti della sapienza, filosofi. E come nella fiera, l'atteggiamento più nobile è fare da spettatore senza cercare vantaggio alcuno, così nella vita lo studia la conoscenza della natura e di gran lunga superiore a tutte le attività. Qui vedete Pitagora elenca alcuni tipi e poi lui fa un'opzione decisa e dice che la vita migliore è quella della conoscenza e quella del filosofo e quella contemplativa. Ora Aristotele poneva questa domanda e dice a Aristos Bios, se noi dopo 2500 anni siamo a chiedersi anche noi a farci la stessa domanda. Ora felicità è una parola assoluta che abbiamo addirittura pudore a pronunciare perché io non ho mai sentito dire nessuno assennato che dica io sono felice. La stessa lingua non ci aiuta, felice, è una parola assoluta, chiaramente rinvia al latino felix, però il latino felix voleva dire un'altra cosa, voleva dire uno che ha successo, che è prospero e poi voleva dire fecondo, fertile. Quando nel quarto libro dell'Eneide Anna, la sorella Anna, si rivolge a Didone, la chiama soror in felix, è in felix, non felix, non solo perché è stata piantata da Didone, ma anche perché è sterile, non ha figli. Quindi il felice originario non rende conto di questa parola assoluta nostra. Lasciamo perdere poi la parola fortunatus perché fortunatus vuol dire uno che è in preda alla fortuna, che vuole essere buono o cattivo, fortunatus sì, lo vuol dire anche sciagurato, sventurato. Debolissima, improprio, anche il latino, il nostro lieto, letus, che non voleva dire festoso, ma voleva dire semplicemente uno che era grasso, era detto del fertilizzante. Ci dobbiamo rassegnare alla parola beato, noi italiani, in italiano. Beatus che però rinvia, come nelle beatitudini evangeliche, a una dimensione spirituale ed etica. Nelle beatitudini, nel quinto di Matteo, beati, beati, beati. Il greco ha macarius, macarius è la parola che veniva affibbiata agli dèi, la felicità. Nessuno di noi dice oggi sono beato, equivalente di questo greco macarius che era proprio della divinità. Perché una parola ormai che significa altro, che è stata sequestrata, questa parola anche dal linguaggio ecclesiastico, indica il processo di canonizzazione di una persona virtuosa. Quindi la lingua stessa è impara, inadeguata, sembra un'ottava sotto per questo concetto assoluto. Sembra che la lingua non ce la faccia e esprime questo concetto. E quando la lingua non ce la fa dire un concetto? Vuol dire che quel concetto non è afferrabile, non è sperimentabile, non lo conosciamo. Che abbia ragione Nietzsche, il quale sentenziava, la felicità non ha volto, ma spalle. Per questo noi la vediamo quando se n'è andata. Sì, la percepiamo più come un'assenza che come una presenza. Più una negatività in negativo piuttosto che in positivo. Viene in mente lo stesso problema che abbiamo con il tempo. Quando ad Agostino gli hanno chiesto ma cos'è il tempo? Agostino dice se nessuno me lo chiede io so cos'è il tempo. Ma se uno mi dice e finisci il tempo io non lo so spiegare. È un po' lo stesso tema. Ci sono questi temi assoluti. Queste parole assolute per cui noi non siamo adeguati. Certo che oggi è derubricata un po' questa parola assolute, è vero. Molte la confondono, non dico proprio con la chirurgia plastica, ma insomma con il wellness, è vero. Lo derubricano a wellness. Lo collegano al PIL. Uscirà un libro intitolato BES, benessere ecosostenibile, che è stato fatto anche dalla Banca d'Italia. Avere un convegno sulla felicità abbinato al cortile dei gentili. Addirittura in una città che conosco bene, perché è la mia città d'origine, hanno pensato di istituire anche un assessorato alla felicità. La creatività non dà i risultati migliori sempre, insomma, capite? Io chiuderei questa premessa con una domanda. Come mai è così difficile, così remota, quasi impossibile sia l'identificazione della felicità sia la sua stessa definizione? Come mai? Qui ci vorrebbe, voi direte, ma ci vorrebbe uno psicologo, ci vorrebbe un antropologo, ci vorrebbe un teologo, un filosofo. Io sono un filologo, un classicista. Io, ecco, questa sera mi ritaglierò una riflessione con dei limiti cronologici e letterari ben precisi, perché non mi addentro là dove il ghiaccio per me è sottile. Perché per questa domanda voi direte, accanto a te, questa sera ci dovrebbero essere altri, o addirittura al posto tuo. Ma come diceva Seneca nello stesso prato, è vero, ognuno cerca il bue, cerca una cosa, è vero, la farfalla ne cerca un altro, è vero, c'è posto per tutti in questo prato della vita per cercare. E ognuno prova a portare il proprio contributo e il proprio segmentino di vita. Allora, questa domanda, come mai, è così difficile, è quasi impossibile, identificare e definire questa felicità? Io azzardo questa risposta, perché la felicità o è un bene condiviso o non lo è. O tutti sono felici o nessuno ha il diritto di esserlo. Se anche uno solo fosse infelice, nessuno di noi individualmente ha il diritto di esserlo. Perché? Io dico questo non sulla base del Vangelo, non sulla base di un testo religioso, lo dico sulla base di un testo di Aristotele. Perché noi non siamo isole, noi siamo delle penisole, rinviamo, siamo attaccati sempre a qualcuno o a qualcos'altro. Noi non siamo soli, non siamo isolati, non siamo separati, ma siamo vincolati, siamo collegati, siamo incordati. Siamo condannati alla società, alla socialità, alla comunità. Ecco, isolato, separato, solo e o Dio o la bestia. Chiuse le virgolette, Aristotele. L'uomo separato, corrisseis, quello isolato, vivente, lente, essere isolato, o è Dio o è bestia. L'uomo è tutt'altro. Da solo, da solo, singolarmente può essere felice o Dio che è la ragione, il Logos, o la bestia che è priva di Logos. È inconsapevole. Infatti, Aristotele dice che gli zoo, gli animali, sono aloga, questo alfa privativo, senza Logos. E l'uomo, invece, ha queste due caratteristiche. È politikon, vive nella polis con gli altri e dice tozon e ton logo. L'uomo è colui che ha Logos. Da solo è concepibile solo Dio o la bestia. L'uomo da solo non è concepibile. Non l'uomo che è dotato di Logos, che ha un destino collettivo, perché, a differenza di Dio e della bestia, è un animale sociale e politico. che siamo insieme, vero, lo capiamo bene, meglio oggi, se non per convinzione, almeno per convenienza e per necessità. Quando capiamo, in questo Paese, che ci salviamo tutti o non si salva nessuno. Per cui, io amo dire che il pronome personale del terzo millennio è noi, non è io. Fatta questa premessa, entriamo nel vivo di questa argomentazione. Come vi ho detto, io svolgo la mia lezione stasera, proprio sulla base della mia informazione professionale. Seneca e Agostino. I filosofi, dice Agostino, si sono sforzati di stabilire che cosa rende l'uomo felice. Omo beatus. E dice, in quel passo, erano ben 288 le sette che avevano censito questo concetto. Questa richiarazione di Agostino ricapitola tutto il dibattito che c'è stato dai pressocratici, VII, VI secolo a.C. fino a Seneca. Un dibattito integralmente incentrato sulla felicità, perché questo è lo scopo della filosofia. E Socrate è colui che ha strappato la filosofia dal cielo e l'ha portato sulla terra. La filosofia è la cosa più concreta che ci sia. Come la parola. Noi crediamo che chi si occupa di parole, di filosofia, siano coloro che vaneggiano, perché le cose concrete, è vero, sono altre. Ma cosa serve, è vero? C'è anche questo virus che ormai è vero, ormai è. Di cui non vedo vaccini in giro. Ecco. I greci la qualificarono in latino e la chiamavano quindi beatitudo, omo beato. I greci come la chiamavano? Sentite che parola bella. Eudaimonia. Come a dire che ognuno di noi ha un daimon buono, come un angelo custode. Questo tentativo di identificare quest'angelo custode, qualcosa, una forza, qualcosa di buono, eu, che ti accompagna e ti rende la vita felice. Io credo che non sia privo di interesse questo confronto tra Seneca e Agostino, perché Seneca ha scritto un de vita beata, Agostino ha scritto un de beata vita. Ma non è questa inversione di parole che fa la differenza. Vedremo che è ben più sostanziale. E credo così, come messaggio supplementare, vorrei dare che chi crede che il cristianesimo sia una continuazione del vecchio evo, dell'antichità classica, sia fuori strada. Questa concezione continuistica proprio è. E vi anticipo già a grandi linee la conclusione. Seneca. Seneca poneva il culmine della felicità, il summum bonum, nel vivere secondo natura. Dice in questo dialogo, nella vita beata, è la stessa cosa, idem, beate vivere, et secondum naturam vivere. Vivere beatamente, esser beati, vuol dire vivere secondo natura. La natura, questo vivere secondo natura, intesa sia come adesione individuale, alla ragione universale, come perfezione individuale, sia come adesione alla perfezione personale, sia come alla razza che coinvolge tutti gli uomini e gli dèi. E ci vogliono due qualità per raggiungere questa beatitudine. La sapienza è la virtus. La sapienza, la saggezza è il valore. Virtus vuol dire valore. Ottemperando a questo principio di identità, vivere felicemente, vivere secondo natura, è vero, la sapienza ci guida e ci dice fatti guidare dalla natura. E tu devi adeguare la tua razza o la tua ragione a una ragione cosmica che coinvolge tutti. Io do il mio assenso alla natura, non allontanandomi da essa, ma uniformandomi alla sua legge, al suo esempio. C'è in Seneco una riduzione delle ragioni dell'individuo a quelle del cosmo. C'è l'identità tra il fatto e la volontà. Ciò che avviene è per chi io lo voglio. E se lo voglio è giusto che avvenga. E c'è l'identità tra la natura e la ragione. Lo stoicismo crea questa identità tra la physis e la razio. La natura e la ragione. Tra il fatto e la volontà. Per noi il fatto è qualcosa di deterministico, di preterintenzionale. La volontà è qualcosa di soggettivo. Lo stoicismo ha creato questa identità per cui ha razionalizzato tutto ciò che avviene. Tutto ciò che avviene è bene perché secondo natura io lo riconosco con la mia ragione come tale. Questo è un principio naturalistico che farà impazzire Nietzsche. Nietzsche dà di matto quando legge questa pagina di Seneco che dice Voi volete vivere secondo natura, voi stoici? Volete vivere secondo natura o nobili stoici? Quale impostura di parole? Immaginatevi un essere come la natura dissipatrice, senza misure, indifferente, senza propositi e riguardi, senza pietà e giustizia. Feconda e squallida al tempo stesso insicuri. Immaginatevi l'indifferenza stessa come potenza. Come potreste voi vivere conformemente a questa indifferenza? Vivere non è precisamente un voler essere diversi dalla natura? Vivere non è forse valutare, preferire, essere limitati, voler essere differenti? Il vostro orgoglio vuole prescrivere e incarnare nella natura, perfino nella natura, la vostra morale, il vostro ideale. Voi pretendete che essa sia natura conforme alla stoa. Nietzsche cava la maschera e dice non è che voi volete vivere secondo natura, voi volete piegare la natura alla vostra razio. Questo è il vostro grande sofisma, è un capovolgimento sofistico. Seneca dice, l'ideale, gli stori di vivere secondo natura, Nietzsche, ma quale natura? Vi sembra bella la natura? Così disse Patrice, è ingiusta? Sarà quello il bene, la beatitudine? Peraltro con questo principio Seneca giustificava anche la morte. La morte è secondo natura, quindi è un bene. E contro questo reagirà, apro parentesi, Agostino. Agostino dice proprio qui, gli va contro, è frontale, dice che mors, abet, animali, quid, contra natura. La morte ha qualcosa di contra natura. E dice anche ha un aspero, un senso, ha qualcosa di osceno, la morte è di contra natura. Capite che lo stoicismo identificava la natura, la razza, la natura. C'era tutto un dibattito tra ciò che era per legge e ciò che era per natura. Scusate questa parentesi, non vorrei disperdervi, però sono alcuni concetti fondamentali. Tutto questo, la natura, madre o matrigna? Questo grande dibattito che è vero ci ha accompagnati dall'antichità fino a Lucrezio, poi a Leopardi. Cosa è la natura, madre o matrigna? Bisogna seguirla come una madre o star lontani come una matrigna? Tutto qui il dibattito era. E già i sofisti la pensavano diversamente. Se voi andate a leggere il protagoro di Platone, voi trovate Ippia, il sofista Ippia che dice gli uomini sono uguali per natura. Siamo tutti uguali per natura. Nasciamo nudi, moriamo tutti uguali. La differenza la fa il legislatore, la fa l'uomo che crea ingiustizie. Questo dice il protagoro di Platone, andate a prendere il gorge di Platone, lì avete Callicle il sofista che dice no, gli uomini sono diseguali per natura. Come gli animali c'è quello più forte e più debole. È la legge che ci ha livellati tutti e ci ha fatti tutti ingiustamente uguali. Quindi capite che questo era un bel dibattito. chiuso la parentesi. Quindi il primo punto, questa saggezza, questa razza ci dice tu devi uniformarti alla natura, dice Seneca, e trovi il tuo equilibrio con te stesso e col cosmo. La ragione universale che governa tutto ed è giusta. Ma oltre alla sapienza ci vuole la virtus, il valore. Oltre al piano teorico, diremmo noi, oltre al piano del cervello ci vuole il piano della mano, ci vuole quello esecutivo, del fare. Per Seneca la felicità si identifica non solo con la sapienza, non solo con la conoscenza del bene, ma anche con la pratica del bene, con la virtus. E dice in virtute posita est vera felicitis. La vera felicità, la vera beatitude è posta nella virtù. Qui c'è una netta differenza dall'intellettualismo greco. I greci cosa dicevano? I greci identificavano la virtù con la verità. Se uno conosceva la verità era automaticamente virtuoso, si chiamava in filosofia intellettualismo etico. Se uno bastava conoscere la verità e tu eri a posto, eri virtuoso. E viceversa, se eri in errore, eri un ignorante, eri nella mazzia, eri nella martia, nell'errore. Quindi, conoscere vuol dire essere virtuoso, non conoscere vuol dire essere nel peccato. Quello era l'intellettualismo greco. Qui Roma, invece, è nel segno del fare, è nel segno della virtus. A Roma, dice Cicerone, la virtù consiste solo nel suo uso. A differenza delle altre arti, degli altri mestieri, che tu puoi imparare, mettere da parte la virtù, o la eserciti quotidianamente, e ti rende vice, oppure non la puoi mantenere. E qual è l'uso massimo della virtù, usus maximus, l'uso ideale della virtù? Sentite qual è? La gubernazio civitatis, e il bene comune, darsi da fare per la città. Tant'è vero che Cicerone, nel sogno di Scipione, immaginerà nella Via Lattea, questi beati, dice il nipote, Scipione chiede al nonno adottivo, ma chi sono quelli là, in questo sogno? Quelli sono coloro che hanno fatto politica, sono coloro che hanno pensato alle leggi del bene comune, hanno meritato il paradiso. Per loro, locus est, certo, sincero, per loro c'è il paradiso assicurato. Siamo ben lontani dai gironi infernali di Tangentopoli, è vero? Per loro c'è il paradiso. Per loro c'è il paradiso. A Roma, ecco, per essere, secondo lo stoicismo, avere questa felicità, questa vita beata, camminava su due gambe. l'uno è quella della conoscenza, della sabbia, e l'altro è della virtus, e della virtus. E questa virtus va perseguita di per sé stessa, non perché te ne viene qualcosa. Sentite com'è bello qui, nel De Vita Beata, 9.4, la virtus è ipsa premium sum. Perché devo essere virtuoso? Devo fare questa bocca. Perché la virtù è già un premio per sé stessa. Qual è il premio? Non che uno ti premi in questa vita o per un'altra vita. Essere virtuoso è quello il premio. È già un premio di per sé stesso. La sapienza, la virtus, ma ci sono nella vita le avversità, c'è il male, c'è il dolore, e allora il sapien stoico, il saggio stoico, senica, dice che bisogna avere una virtus supplementare, che è quello della pazienza. Pazienza vuol dire due cose, vuol dire capacità di sopportazione e anche sofferenza. E questa è una grande virtù. Perché? Perché è proprio del saggio e questa virtù addirittura ti pone in gara con Dio. Addirittura, dice Seneca, il saggio, grazie alla pazienza, è superiore a Dio. Perché mentre Dio è extra pazienza, un Dio al di fuori dalla sofferenza non può soffrire, tu saggio sei addirittura al di sopra, sopra. In questo superate Dio. Lui è fuori dalla sofferenza, voi al di sopra. Questa è una sfida, ci torneremo contro il Cile, è un'etica eroica. E quest'etica eroica porterà, per raggiungere la felicità, dice Seneca, io le provo tutte, poi alla fine c'è sempre una porta aperta, c'è un'uscita di sicurezza, cos'è? E' il suicidio. Mal che ti vada, tu cerchi la libertà, tu devi essere libero. Se non lo puoi avere in questa vita, lui alla fine lo capirà, lo sconterà personalmente, dice patete, è aperta una porta, c'è la vita, ed è il suicidio. E questo attirerà le iri di Agostino. Sentite Agostino, perché Seneca dice, tu devi sopportare la vita, in base alla pazienza, però, se non ti è possibile, devi ricorrere al colmo della tua capacità di sopportazione e ti togli la vita. Poi in una lettera dirà, io non l'ho fatto prima, perché quando mi veniva in mente il suicidio, mi veniva alla memoria il mio vecchio padre. e allora mi sono detto che forse è da uomini forti vivere e non togliersi la vita in un quest'alettrice, pensando a suo padre. Però alla fine lui teorizza proprio nel De Providenza, dove scrive questo dialogo per giustificare la presenza del mare, alla fine c'è l'uscita del suicidio. Dice, Catone ha fatto bene a suicidarsi perché lì ha guadagnato l'estrema libertà con il suicidio. E Agostino qui li va ancora frontalmente e dice se la vita è davvero beata, si persevere in essa, si può essere così ciechi, dice Agostino, da non vedere che se la vita è felice non la si deve fuggire. Voi stoici, dite che la vita è felice secondo natura. E perché predicate il suicidio? Perché fuggite? Rinunciate alla vita? Diciamo la verità, caro Seneca, Catone, che tu esalti. Si è tolto la vita per la sua pazienza, per la sua capacità di sopportare il dolore, sentite il gioco, per la sua pazienza o piuttosto per l'incapacità, per la impazienza. Catone, ha avuto la virtus della pazienza o il difetto della impazienza, caro Seneca? Questi filosofi stoici non vogliono credere alla felicità, la predicano, ma non vogliono credere alla felicità. Parentesi, di beatitudo nel mondo futuro, perché non la vedono e si sforzano di fabbricarsene una assolutamente falsa, grazie a una virtù che è tanto più orgogliosa quanto più è menzognera. La dottrina stoica è falsa e presuntuosa. e Seneca conclude che la vita felice è un animo libero ed è libero fino al suicidio ed è reto stabile, stabilis. scriverà anche un dialogo di constanza sapientis con stare, un verbo molto stare vuol dire stare come un palo fisso, immobile. Il saggio non cambia mai parere, è stabile. c'è tutta una polemica che erediterà Seneca da tutti gli autori precedenti contro la levitas, la levitas è la leggerezza, è la volubilità, tutta la polemica è contro il populus, contro la turba, perché non ti puoi fidare del popolo, perché ondeggia, ora sta con uno e contro l'altro, questo è il difetto maggiore, perché vuol dire che non sei saggio, perché il saggio non cambia parere, il saggio è stabile. Il saggio perché è stabile? Perché il saggio stoico era per la pazzeia, era senza patos, era imperturbabile, simile a quello di Picureo che era tarattico, è vero? Questa constanza è la virtù principale di questo saggio che si contrapone al vizio della volubilità, la levitas, levitas, colui che è leggero, che cambia e continua. Lo diciamo anche noi, il leggerino, invece l'altro è come il piombo, quello è vero, è diverso. E qui ci sono dei testi, c'è tutta una letteratura, è vero, che è classica, greca, latina, che culmina con Lucrezio Orazio e avrà questa bella espressione, poi Orazio dirà che cellum non animum mutan, qui trans mare curum. Coloro che varcono l'oceano, che fanno le crociere, cambiano il clima, ma non cambiano l'animo. Perché dice Seneca, è inutile, tu fuggi, ma te confuggi, fuggi con te stesso, ti porti dietro te stesso, quindi non hai rimedio. Ecco, questo qua. e Agostino cosa pensava di questo, della sapienza di Seneca, degli stoici, della virtus, di questa constanza, cosa pensava, di questi elementi che le devono alla vita felice, cosa pensava. Quest'idea senecana di felicità si imparenta, consuona, fa eco con quella cristiana e agostiniana, con quella agostiniana, spesso si dice che il cristianesimo, i padri della Chiesa Agostino, ereditano dai classici. Subito, io ricordo il mio professore di religione che scrisse anche un trattatello, diceva, caro Ivano, quando andremo in paradiso, ci sarà Seneca ad accoglierci. Mi ricordo ancora, questa è la lezione del ginnasio. E io ci ho creduto, ci credevo, poi adesso che, così, sono diventato grandino e mi sono trovato a fare sto mestiere, per mia fortuna, di coniugare, fortuna per quando uno coniuga la passione con la professione, è il massimo. Quando va da Ledger, negli storici, di Ione Cassio, di Tazio, che Seneca ha accumulato un patrimonio di 300 milioni di sesterzi, prestava soldi a tassi altissimi, che era usuraio, che è stato consigliere del principe, allora io, vederlo lì ad accogliermi in paradiso, cominciate a avere qualche dubbio, insomma, proprio, quell'aureola un po', gliel'abbiamo tolta, tant'è vero che nel Medioevo hanno immaginato che ci fossero due Seneca, uno era quello che scriveva le lettere luciglie, che predicava la morale, che era saggissimo, e un altro che era il consigliere del principe di Neronis, non era possibile che era lo stesso, e nell'uomo finito Papini metterà in bocca a Seneca questa cosa, Dio perdonerà a me aver avuto due anime avverse, ecco Seneca ha avuto due anime avverse, e dall'antichità oggi lui ha una schiera di lodatori e di detrattori, gli ultimi sono Melville e Guinter Grass, andate a lesere le pagine feroci, ma anche le pagine del Petrarca, Agostino, e poi anche i grandi che lo elogiano. E' stato ritenuto che tutta la, anche l'etica cristiana riprendeva da quella stoica, che Seneca è stato il padre del cristianismo, ci hanno inventato su un cartesio con Seneca e San Paolo, gli hanno messo le mani addosso, l'hanno cristianizzato, insomma. Io credo, adesso anche da quello che dirò tra un po', che proprio siamo agli opposti, proprio siamo agli opposti, dalla vetus religio alla nuova religio, perché credo che poi il cristianesimo non sia una religione, e lo diremo. Allora, su questo punto Agostino ci soccorre, proprio all'inizio del suo De Beata Vita, quello che vi ho detto prima Seneca l'ha scritto nel De Vita Beata. All'inizio, capitolo 1, paragrafo 1, Agostino dice che noi ci troviamo di fronte a una traversata della vita, in questa traversata della vita noi dobbiamo prima approdare al porto dalla filosofia, filosofia portus, e poi di lì andiamo verso la terra della felicità, la regio Beate Vite, questo è il latino che capite tutti, il regio Beate Vite, la regione della vita Beata. Noi siamo erranti e ignari della via del ritorno, noi veniamo da una patria, dobbiamo tornare, ma non la conosciamo questa strada del ritorno. Noi non possiamo giovarci né della nostra ragione né della nostra volontà, dice Agostino, ma siamo dobbiamo compiere questa traversata e ci viene incontro un'aliqua tempestas, nel mare succede qualcosa, c'è un moto providenziale delle onde, ci riconduce questo a destinazione contro la nostra volontà e nonostante la nostra resistenza. Sentite come dice il latino invitos, qui ci sono dei ragazzi del liceo prima che mi avete presentato, invitos, è vero, controvoglia, obnitentes, resistiamoli, contro. Noi, però, questa onda ci trasporta a noi, noi vediamo il bene, siamo più propensi a fare il mare, però ci trasporta verso la nostra patria. C'è questa aliqua tempestas, la tempestas, il mare, nell'antichità, era un simbolo sempre negativo. Pensate, la nave sconquassata da lì al ceo, orazio, tutto il simbolo della patria, delle turbulenze della patria, è un simbolo negativo. Qui invece è un simbolo positivo in Agostino. Sta qui a significare l'intervento divino, providenziale, salvifico. La felicità per Agostino si configura non come conquista dell'uomo, della sua razio, della sua voluntas, ma come, ecco, dice questa beata vita, vocanda es, bisogna chiamarla, qual è il suo nome? Donum Dei. Addirittura è un dono di Dio, addirittura è il possesso di Dio. Tu, beato è chi Deu, colui che Deum abit, colui che qui abit Deum, beato sest. Allora, qui due riflessioni. Uno, la saggezza classica, la saggezza cristiana. Agostino Esseni, che è poi la saggezza classica, la saggezza moderna. Il discrimine tra la fonte, la causa, la genesi classica, la fonte, la causa, la genesi cristiana della felicità è individuato da Agostino in un sermone. Se voi, Agostino ci aiuta per questa serata, proprio per questo dittico, per queste due visioni, questa sinossi, perché Agostino nel sermone 140 dice, dimmi o stoico, qual è la cosa che rende l'uomo felice? Ho tradotto, è dic stoice, queres facit hominem beatum. Stoico, dimmi, qual è la cosa? La risposta è virtus animi, e l'abbiamo visto prima. Seneca l'ha detto, la virtus, il valore, vero? la sapienza è il valore che attua, che lo concretizza. Dimmi o stoico, che cosa fa l'uomo beatus? E la virtus, animi, il valore. E poi dice, dic cristiane, dimmi o cristiano, queres facit hominem beatum, qual è la cosa che fa l'uomo felice? La risposta è donum dei. Per lo stoico è la virtus, animi, e donum dei. Questo confronto segna la distanza abissale, altro che continuità. Ricordate qui e voi, noi, quelli alcuni che echeggiano l'Egola IV di Virgilio che preannunciava il cristianesimo. C'era anche tutta l'impostazione del pighi, è vero, sulla religione pagana che è l'anticamera della religione cristiana. Questa è una bestemmia con la bigranda, insomma. Questo confronto segna la distanza, questa virtus e questo donum segna la distanza abissale tra la cristianità e la classicità. Da un lato Seneca c'è il sapien stoico che identifica la felicità, la beatitudine e la virtus, che è la forza dell'animo. Dall'altro c'è Agostino il cristiano che identifica la beatude e la felicità nel dono della grazia. Alla sapienza dei filosofi, Agostino sostituisce la sapienza di Dio. Non c'è convergenza, non continuità, non imparentamento, ma di varicazione massima tra stoicismo e cristianesimo, tra pagani e cristiani, tra Seneca e Agostino. la differenza stava in questo. In Seneca l'uomo, il sapiens, in uno sforzo volontaristico, ascendente, ascensionale, tenta un assalto al cielo e vuole rendersi simile a Dio. Qui c'è tutta la dottrina dell'imparentamento a Dio che veniva già da Platone della Omoius Seo, il saggio che voleva essere simile a Dio, anzi, superiore a Dio. Vi ho letto quel brano? Perché a differenza di Dio il saggio può anche soffrire. Dio è il di fuori dalla sofferenza, voi siete al di sopra. Il saggio è come Dio, anzi, superiore a Dio. Tutto è possibile alla virtù del saggio. La virtù può reggere lo Stato, tentare la massima libertà nel suicidio, superare persino Dio. In Agostino Dio, con un moto gratuito e discendente, si fa simile all'uomo. Capite la differenza? Il saggio stoico vuol diventare simile a Dio, questo Moius Tozeo. Invece nel cristianesimo è l'opposto. e questo Moius Sanstropo è l'imparentamento con l'uomo, l'identificazione con l'uomo, l'assomiglianza all'uomo. Lo stoicismo Seneca aveva una prospettiva etica, antropocentrica, incentrata sull'uomo, che si salva da solo, ha un'etica autonoma. Autonoma sia la parola di Antigone, che dice a Creonte tu fai la legge per la città, non mi fai seppellire il mio fratello, ma io sono autonomos, autos enomos, mi faccio la legge da sola. L'uomo che si fa la legge da sola, autonomo, antropocentrico. Invece nella prospettiva cristiana c'è una prospettiva non etica ma teologica ed è cristocentrica. All'etica autonoma l'uomo che fa legge a se stesso si sostituisce all'etica eteronoma. l'uomo che fa i contri con l'altro che per chi ci crede è l'altro con la maiuscola. C'è un bel passo di Flaubert in una lettera a Madame Mdadegenet che dice quando gli dèi non c'erano più e Cristo non ancora tra Cicerone e Marco Aurelio c'è stato un momento unico in cui è esistito l'uomo l'uomo solo e che questo è il momento ormai non si crede più agli dèi politeistici non ci sono più gli dèi non c'è Cristo ancora c'è l'uomo solo cosa volete che facesse Seneca di più? È il massimo che poteva estrarre dall'uomo dalla sapienza umana ed è il periodo è vero poi che sarà anche di Lucrezio di questo di questa assenza proprio del divino è vero c'è questo periodo storico pensate è drammatico per chi viveva in quel periodo non credere più agli dèi alla vetus religio e non avere una nuova prospettiva la storia si gioca su questi grandi momenti e sono questi che creano poi il pensiero e segnano il futuro ancora l'ultimo è vero codicillo di questa riflessione tra saggezza classica e saggezza cristiana il Dio pagano è un Deus potens è vero Seneca diceva che Deus extra pazienza il Dio non può soffrire e a pazzes non può soffrire e in pazienza diceva ed era potente quello cristiano è un Deus pazienza e dice Agostino lui poteva dimostrare tutta la sua potenza quando era in croce sentite cosa dice Agostino non descendeva di croce non potenzia dimostrava set pazienza doceva lui avrebbe potuto dimostrare la sua potenza ma lui non discendeva dalla croce non voleva dimostrare la potenza ma voleva mostrare la sua capacità di sofferenza è questo che è un po' lo scandalo del cristianesimo è vero l'altra riflessione su saggezza classica e saggezza moderna Seneca in quel di vita beata dice vita felice è un animo collocato dice un animo stabili stabilis che ha questa constanza che non cambia che non cede alla levitas è vero la volubilità e poi questa vita felice un animo dice collocato fuori dal timore dal desiderio extra metum et extra cupiditate il desiderio la passione e il timore sono dei disvalori perché perché si nutrono di futuro colui che è in ansia che desidero colui che teme è uno proiettato nel futuro e sono dei disvalori si nutrono del futuro il saggio stoico invece rifiuta ecco questo un grande principio la classicità rifiuta il futuro e incentra tutto sul presente Seneca dirà il suo imperativo categoria vive protinus vive immediatamente vivi adesso vivi senza perder tempo vivi il presente crisippo l'aveva detto il maestro stoico esiste solo il presente il greco dice tonne nestota i parli esiste solo il presente solo il presente esiste vivi il presente nel presente tu consensi perché l'istante contiene l'eternità e dicevano loro i saggi stoici conta la qualità della vita e non la qualità per cui la vita non è breve sei tu che la rendi breve perché la disperdi vivi il presente e allora la passione il timore ti distolgono dal presente e ti proiettano nel futuro Orazio secondo il verbo Epicure diceva carpe diem con il giorno l'attimo Seneca dice protinus vive è il carpe diem di uno stoico è la stessa è il presente tutto è incentrato nel presente la felicità per i classici abita il presente è figlia del presente nessun futuro e nessun al di là lo attende basterebbe ricordare riguardo all'al di là quanto al dopo alla seconda vita vi ricordate nell'Odissea Omero cosa dice Achille a Ulisse della morte non parlarmi glorioso Odisseo vorrei essere il servo di un padrone povero piuttosto che regnare su tutte le ombre dei morti meglio essere in vita un servo umido anche un porcaio piuttosto che essere il principe del regno dei morti nessun futuro e nessun al di là lo attende pensate quanta distanza dalla modernità tutto il contrario della modernità perché la concessione classica aveva una concessione ciclica tutto tornava vi ricordate l'età dell'oro dell'argento del bronzo e del ferro e poi tornavano tornavano gli imperi tornava la storia tutto e l'umanità tutto il cosmo questa rigenerazione continua questa concessione ciclica capite voi che la concessione ciclica non è una concessione ottimistica tutto è prevedibile tu cosa puoi cambiare concessione ciclica un eterno ritorto un cerchio la classicità aveva questo per questo esaltava il presente la modernità invece pone la felicità dove nel progresso nel futuro perché ha una concessione lineare e non ciclica pensa alle magnifiche sorti progressive nelle ideologie progressive si chiama l'illuminismo marxismo socialismo tutte erigono i loro principi la scienza e la tecnica che cosa l'utopia l'utopia dove sta sta davanti e poi che cosa c'è una parola che non ho ancora pronunciato qual è la parola che mancava alla classicità che ha la modernità qual è la parola è la parola speranza nexpe necmeto dicevano gli antichi senza paura vivi e senza speranza ecco la parola speranza la grande assente dell'antichità però speranza è parola della modernità nella classicità per speranza i greci la chiamavano il pis però come lo spes latino voleva dire attesa aspettazione l'attesa che poteva essere positiva o negativa era una famosa vox media lo dico qui per quei liceali che ho visto come fortuna male e buona fortuna così la spes buona e male così ci sono queste vox media che hanno tutti e due i significati vero sono queste x due soluzioni speranza che è parola della modernità perché nell'antichità volevo dire aspettativa è parola della modernità ma ancora prima di chi è parola e qui chiudiamo l'anello di chi è la parola speranza è una è virtù proprio con chi hai ha fatto irruzione nella storia dove è entrata la parola speranza con chi certo non nel paganesimo e lo vedremo adesso nel cristianesimo quella dell'illuminismo del marxismo del socialismo saranno versioni laiche della speranza cristiana dell'utopia il mondo classico ha come motto nexpe nexmetu senza speranza e senza paura questo era il sapiens ideale questo faceva concorrenza a Dio lui perché Dio non può avere né speranza né paura cos'era per gli antichi la speranza c'è questo poemetto anonimo di Senni c'è in un vecchio anonimo sui provenienti di Senni sapete come sentite come è bello come definisce la speranza spes est dulce malum è bello dulce malum la speranza è un incantesimo è un dolce inganno metto fuori di questa sala è una fregatura dulce malum il prometeo di Eschilo vi ricordate il coro dice Eschilo ma tu cosa hai commesso cosa hai fatto cosa hai commesso per avere questa pena dice ho fatto una cosa ho distolto gli uomini dalla morte ma in che modo lo hai fatto quale medicina il greco dice farmacol quale medicina hai dato agli uomini per distoglierli dal pensiero e dalla morte sentite li ho colmati di speranze cieche il greco dice tuiflas elpidas la speranza per il greco era qualcosa di cieco per il latino era un dulce malum Esiodo nelle opere pone la speranza nel vaso di Pandora capite che nel vaso di Pandora non c'era il meglio è un simbolo è vero ecco la speranza perché non c'era nella classicità perché la speranza ha un fondamento non autonome nell'uomo perché chi spera da solo è un illuso ha un fondamento eteronome nell'altro ha un fondamento come lo diciamo Giovanni teocentrico cristocentrico non lo so nella lettera ai romani dice San Paolo spe salvi fatti sumus siamo stati fatti salvi dalla speranza e sempre in quell'epistola ai romani c'è la spes contra spen bisogna sperare contro ogni speranza questo era inconcepibile era inconcepibile nella classicità la speranza tanto più sperare contro ogni speranza ed è Abramo che spera contro ogni speranza il ricordo di Abramo oltre che virtù teologale spes è il fondamento del cristianesimo la direi così il sabato santo erano scomparse le altre due virtù teologali la fede e la carità e rimaste in piedi solo la speranza che è quella che è fondativa ho ancora cinque minuti Giovanni così che cosa si può concludere voi capite che io ho proceduto in maniera rapsodica così con degli scenari che spero che ci vorrebbe forse più tessuto connettivo per tenerli assieme però è ho detto è di noi che si parla è la domanda più antica del mondo quella della la diciamo così la volete chiamare felicità la volete chiamare salvazione l'approdo questa approdo questa attraversata della vita e questo è il problema ci sono tre navigazioni tre tipi di navigazioni le prime due sulle prime due ci illumina Platone sulla terza c'è una novità che Platone intravede che però non riesce proprio a formalizzare c'è un primo piano fisico c'è un piano naturalistico che condivisa da tutti nell'antichità fossero monisti e pluralisti epicurei o stoici presocratici o postocratici c'è una dimensione dell'imperia dell'esperienza della natura questa costituisce una sorta di prima navigazione c'è una prima navigazione che è quella in cui gli uomini in mare si affidano alla forza naturale dei venti alla physis tu sei in mare sei con la barca a vela e il vento e il vento ti spinge e tu navighi questa è la prima navigazione ti affidi alla natura che ti guida e ti spinge e non hai bisogno del motore non hai bisogno dei rimi di niente è la natura che ti guida questo è il piano però è il primo piano è un piano c'è un secondo piano una seconda definizione per l'attraversata della vita ci si pone alla navigazione affidare alle forze naturali occasionali dei venti però sono occasionali possono essere precarie perché i venti possono anche non esserci tu vai a largo qui c'è qualcuno che anche da ragazzino è andato con laser a largo è vero quando non tira il vento è un problema come si torna? è un problema e allora quella è la seconda navigazione dice Platone la chiamo Deuteros Plus è la seconda navigazione allora lì interviene lì ci vogliono i reni vale a dire l'autonomia del ragionamento del logos dell'uomo agli occhi del corpo propri dell'indagine empirica condizionati dalle apparenze sensibili e fisiche Platone a quel primo piano delle forze della natura agli occhi del corpo Platone ci vogliono un certo punto gli occhi dell'anima quelli che colgono la realtà sovrasensibile ci vuole il logos il ragionamento dopo il piano fisico c'è il piano metafisico dopo il piano della natura c'è il piano della filosofia ecco secondo Platone questa traversata del mare della vita questa seconda scelta questa seconda navigazione ce la dà la ragione allora tu capisci e ti costruisci uno strumento i remi e torni arriva e cos'è non ti affidi più alla natura la natura non ti basta interviene un ragionamento sovrasensibile sovranaturale e lui dice il piano della filosofia il piano della metafisica e devi ricorrere ai remi agli occhi dell'anima non bastano più quelli del corpo e dice Platone secondo Platone questa traversata del mare della vita questa seconda navigazione questa scelta metafisica pur rischiosa dice e fra i ragionamenti umani il migliore e il meno confutabile io dice Platone arrivo fin qui il migliore a meno che continua nel fedone ecco sentite ho ancora tre minuti e poi ho finito a meno che non si possa fare il viaggio con maggior sicurezza e minor pericolo su una nave più solida cioè affidandosi a un discorso divino seios logos la seconda navigazione è proprio del logos dell'uomo questa a me sembra quella migliore quella meno confutabile a meno che ci sia dice Platone si possa fare un viaggio una traversata con maggior sicurezza e con un miglior pericolo su una nave più solida affidandosi a un seios logos a un discorso divino Platone che aveva preferito alla prima la seconda navigazione sembra qui intravedere ipotizzare ma non certificare un'altra un'ulteriore navigazione vi dico subito che reale il filosofo reale in maniera impropria ecco qui quando uno usa i testi classici in maniera un po' pretestuosa perché i testi preesistono a noi non sono dei pretesti per far reale sapete come traduce questo seios logos semplicemente è un ragionamento che ha qualcosa di divino lui dice la rivelazione divina la rivelazione è proprio del cristianesimo lui accredita Platone di questo gli mette le mani addosso è vero qui reale non va bene lui dice Platone dice io arrivo alla seconda navigazione a meno che però ce ne possa Platone quasi intravede ma non certifica questa lui è arrivato al deuteros plus alla seconda al tritos plus alla terza non ci arriva ecco allora c'è un terzo piano che è quello proprio io non dico religioso dico rivelativo che è quello nel segno di Agostino per salire su quella nave più solida per attingere un discorso che ha qualcosa di divino che Platone intravede Platone grande innamorato delle idee il più grande idealista proprio un costruttore di idee lui arriva fino lì si ferma lui con la seconda navigazione ecco dice ma forse potrebbe esserci anche una nave più solida ma io non lo so ci potrebbe essere anche un discorso più che non è solo quello del logos c'è un altro ma che io non conosco ecco bisognerà attendere allora una sorta di terza navigazione ed è questa l'ho tratto dal commento al Vangelo di Giovanni che fa Agostino Agostino dice è come se qualcuno riuscisse a vedere da lontano la patria ma il mare lo separa da essa perché qui c'è tutta la concezione anche Neoplatone così noi veniamo da una patria siamo qui provvisori e dobbiamo tornare alla nostra patria però è come se qualcuno riuscisse a vedere da lontano la patria uno da lontano la vede ma il mare lo separa da essa e gli vede dove deve andare sempre per quella ragazzina che ho visto prima delizio dove motologo qua qua lui vede dove deve andare ma gli manca il mezzo con cui andare ma vede dice vedete qua se non qua qua vi ricordate scusate l'accanimento grammaticalistico era quell'ablativo consecutivo sa dove deve andare ma non per dove deve passare lui vede la meta ma non vede per dove si passa vede la direzione ma non vede la strada c'è di mezzo che cosa c'è di mezzo c'è il mare c'è di mezzo il mare di questo secolo lui arriva vede dove deve arrivare arrivare ma non capisce dove deve passare perché di mezzo c'è il mare di questo secolo attraverso il quale dobbiamo andare perciò affinché ci fosse anche il mezzo con cui andare venne di là colui al quale volevamo andare e cosa ha fatto? ha preparato il legno con cui potessimo attraversare il mare infatti nessuno può attraversare il mare in questo secolo se non è portato dalla croce di Cristo grazie 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 grazie